I capolavori del maestro Marcello Mariani vanno all'asta e la città rischia di perdere un patrimonio notevole. Il figlio Daniele ha spiegato che sta trattando con grandi musei internazionali che hanno molta attenzione per i lavori dell'artista. Le opere però nella prossima primavera andranno all'asta, la base è di 190.000 euro d'opera, quindi il trittico, composto da Inferno, Purgatorio e Paradiso, potrebbe essere acquistato a meno di 600.000 euro. Opere che di recente sono state restaurate dall'Accademia delle Belle Arti grazie alla Fondazione Caris, Spacalatam è proprietario ed è ente della regione Abruzzo, per cui la regione stessa potrebbe addirittura acquisirle e questa tutti vorrebbero come strada per non perdere questo prezioso patrimonio artistico. L'idea di Daniele Mariani è coinvolgere il privato e pubblico per far rimanere le opere in città che potrebbero essere esposte al mondo in un grande museo nella chiesa di Santa Maria Paganica. Rappresentano comunque un grosso patrimonio sia di cultura e anche economico, per cui destinato secondo me a crescere, vista l'attenzione sull'opera di mio padre, ormai dedicata da grandi musei nazionali e internazionali, per cui è la celebrazione di un nostro grande talento che interpreta la sensibilità della nostra città, della nostra storia e rappresenta un faro anche di evoluzione per le generazioni future. Non vanno sottovalutate queste cose perché la conservazione di un patrimonio culturale di questo spessore è un investimento per il territorio e per la ricostruzione morale, culturale e identitaria di questa città. Nel passato i grandi capolavori che i pittori hanno lasciato all'Aquila nel 600 e nel 700, tutti i grandi pittori della scuola napoletana, ancora oggi ci parlano di uno straordinario passato che è stato nostro e che deve essere perpetuato nel futuro. Per cui io spero che ci sia questo grande sguardo ampio sul futuro da parte degli enti pubblici e privati e magari spero che possano dialogare in coordinamento fra di loro per trovare anche gli strumenti contrattuali, economici, organizzativi, giuridici per conservare questo patrimonio magari in un grande museo che si aprirà, il Museo Nazionale d'Aberuzio, il Munda, non so, questa è una cosa che vedranno poi i tecnici.